Belli canottari bentornati, buona vigilia di Natale E oggi siamo qui con il secondo team dei Joker Wildcard Winter Pa 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 Quei cento nomi che gli hanno dato Ieri di giovedì è uscito il nuovo team Però ci sarà una mini race Di altre sette carte Tra cui Brata, Remi e compagna Bella Ieri è uscita un po' di robetta Devo dire, veramente interessante Ci stanno alcuni che sono veramente curioso di provare Però sicuramente il team 1 È mille volte meglio Ci stavano quelle carte già solo Neymar e Pogba Ma pure altri giocatori da provare Che insomma mi sembrano meglio di questi L'unico che tocca vedere Ibra come gli fanno la carta Perché sono abbastanza curioso di provare l'Ibrahimovic E il resto Ci stanno dei giocatori un po' che sono abbastanza interessati Iniziamo da Sterling Sterling al momento sta a 493.000 crediti E hanno fatto un mancino 4-4 In realtà hanno cambiato come Coman E classe 3 E questo guarda che tiro Poi Sterling sguscia tutto Ti dirò Ma guarda che quasi quasi ci faccio un pensierino Che poi sarà tutto rapido Fisicamente tanto un minimo tiene botta Ma Certo 82 potenza tiro Però 93 posizionamento Quarto medio Bello questo Sterlingo Passaggio un po' così Però un grandrio Bello Massa Bella carta Mi piace A saperlo Muopiavo ieri sera E stessi rialzati un po' rispetto a ieri sera Quindi Bo che Era un terrensato A prendere St'altro mostro qua Poi ho fatto Oh pio No pio Oh pio No pio A fine Ne ho preso Perché Ho paura che calano veramente tanto Cioè tipo quel Pogba Ne ricordo Ho fatto la recensione 1.7 appena uscito Sta a un milione Con tutto che è dalla triple A Pogba che è uscito ieri Quindi Bo non so quanto effettivamente Ci vorrei andare a spendere Però Sai fai che mi cala di mezzo milione Mi ruote proprio il culo Ne ruote Cioè Piagli il giorno O doveva ieri sera Però poi già le dici O devi far volare prima delle diciannove Perché già sai che tanto prima Cioè perdi sopra Cioè è scontato Più che altro Tutti Cioè pure quei Jesus Stavano a milione e mezzo Sono nati sotto il milione Ma lascia sta che sono scelte due versioni E che una delle due Panno da mezzo milione Perché hanno fatto tutto il casino Quei pacchi Però Sono tutte carte che secondo me Poi Se continuano a mettere Quei tipo di promo Ti mettono i party bag Tipo nello shop Iniziano a mettere Lighting rounds A tutte le ore del giorno e della notte Più i garantiti E cose Alla fine Finisci che Veramente E queste carte te le tirano dietro Ma c'è stata tutta la weekend league I premi L'hanno migliorati i premi Della weekend league La prima settimana Boh Secondo me È stato un grande spreco dei credit Renderlo subito Pure vero che comunque La carta è quella È una cartona Ho visto qualche video Perché ho detto Cazzo Dove lo spendere il mio Fammi vedere qualche video su youtube De qualcuno che l'ha provato Sembra forte C'è una falcata incredibile Fisicamente Tiene Bel passaggio Tiro della madonna Alla fine c'è 90 De finalizzazione E Un 80 qua C'è work C'è a tiro C'è a stampa Questo c'è un cartone C'è onestamente Poi magari Non si muove Perché comunque C'è il body tap Unico Proprio tutto personalizzato C'è un 90 De dribbling Però sicuramente Non si muove Come che te posso dire Ovviamente È un giocatore Un po' più piccolino Non si muove come Neymar Però sicuramente È uno di quelli Che sarei molto 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 curioso Poi gli hanno messo Il 5 de debole Gli hanno messo Alto basso Hanno proprio rifatto La carta da capo E uscita Una carta di Cristo L'unico Se mi volevo tenere i sordi Io provo Ibrahimovic Solo quello Che era un po' Il pallino del team E' solo che giustamente Noi lo fanno usci Noi lo fanno usci dopo Poi Moura 4-4 Oppure Moura cartone L'unico Se mi facevi 5 de skill E già stavo nel club 4 de skill è forte E poi Moura Lo sappiamo C'è rotto Come ogni anno E' sbroccato il type E' sbroccato nei movimenti E' sbroccato E' sbroccato proprio De suo Poi c'ha classe Tribblatore veloce Che non fanno mai male Brasiliano L'hanno fatto pure C-O-C Tanta roba Però costa 800.000 E non c'ha Ce l'hanno lasciato 4-4 Che si ok Però Boh 800.000 de 4-4 Per quanto può essere bello Non so Così sicuro Devo letto Lì da Onestamente Poi è uscito Azzardo Azzardo ogni anno Di Erto I Player speciali Le carte De qua e de là Sempre 4-4 Un tuo pole va dalla capoccia E sempre che tanto Dovrebbe core in core Dovrebbe Boh Sebbene C'è il body Da personalizzato E se ma A me azzardo Non mi piace 400.000 Datto con petto Dattelo cari In corsa pure A me azzardo Non mi piace Ma mi piacerà Già lo so Quindi sta bene Indossato Magari è un fenomeno Soyuncu 100k Soyuncu Un altro centrale Da Premier League Con 80 più De velocità Hanno cacciato Ti dirò A forza c'è la Crescita C'è la Airwork C'è la Il passaggio C'è la Ma carta Abbassia Completa Mi sembra Caruccio Pure questo Certo Turco Dell'Eister Con chi cazzo Linko Dentro La Premier Poi abbiamo Tierney Tierney Alto Eh ma questo è un altro Bertersino Da Premier League Spigna Costa 90.000 C'è la costerà Pure di meno E poi mi ricorda Quel Tierney Parpol Tutto sbroccato Che regalavano Qualche FIFA Fa con gli obiettivi Campionato Tanta roba Poi Morales Oh 120k Per questo Guarda che cartina Questo fa doppia Go in barba Che è uscito Che è uscito Nel team precedente Che ti dirò Comunque Questo si potrebbe Provare alla fine Se va sotto i 100k Potrei Potrei essere Veramente tanto Tanto curioso Di provare Un giocatore del genere Ti ho detto Poi è in barba Per detto E me ce l'ero trovato Pure abbastanza bene Era una bella carta Con 2000 traits E questo qua Questo secondo me Guarda Ma ti dirò Sul secondo account Un Morales In barba Non so Però questo si prova Alessandrini C'ha una carta Della madonna Costa 190 L'unico problema L'unico problema L'unico problema È che l'anno scorso C'è il flashback E avevano Visto che era uscito Dal gioco E poi rientrato Gli hanno cambiato E avevano ricambiato A suo tempo Tutto il body type Tutti i movimenti Lo scan E cazzi Ed era una pippa L'anno scorso Il flashback Penso una delle più grandi crepe Che ho preso Per quanto riguarda Le sbc Invece Vedete Solo l'if Leggermente bussato Rispetto alla carta base Quando uscì A suo tempo Che era il 18 Era un fenomeno Era una carta Pazzesca Era veramente Tanta 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 roba Quindi onestamente Boh È da vede come è in game Se è come l'anno scorso Se è come Tre anni fa Quattro anni fa È un fenomeno Te dirò Per 190 Questo ha sotto i 150 Se prova Poi c'è scelto Sto Collins Questo tocca a vedere La GPU Perché 150.000 Non costa manco tanto Sta a comprare Un centrale Con 90 de velocità 76 de dribble Il 90 da girita 93 de forza Un 88 Medio medio Che c'è sta Dribblatore veloce Cazzo ce faccio Però è C'è una gran bella carta Poi comunque Sia un tedesco A verde con noi Cioè Se lo va a ibridare Riesce a ibridare Senza troppi cazzi Secondo me Questo potrebbe essere Veramente carino Da provare Ce l'avevo pensato Però boh Dovrei rivedere Un po' il team C'è il verde con l'otar Volendo Però Boh Guendouzi Guendouzi è bello Cioè Non lo so Un 85 Quarto Quarta Cioè Questo è completo Questo c'ha tutto Costa 180 pure lui Mentre queste Tutte le carte Che andranno Eh oh Ma che io voglio Guarda che cartina Pure lui E Questo pure Proverei 4 t debole 1 80 Questo volevo mettere Dicina Difesa 3 Poi proviamo E poi Florenzi Florenzi per carità Tutto bello Però 3 e 3 hanno fatto Ma io con 3 e 3 Che cazzo ce faccio Cioè C'è sta Quadrato terzino Uscito mo lì Fan fenomeno Non è pegnente Però insomma Poteva non Pegna Fai il 3 e il 4 De skill Almeno il 4 De debole Questo Boh Che poi Secondo me Super sub In mezzo al campo Oppure di la sua L'unico problema L'unico problema È appunto Che è piccolo 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 Quando gli hanno Rifatto Scanna Tipo da 3 FIFA E in più Hanno Sì Hanno Però costa 29.000 Accrediti Quindi insomma Provarlo Non costa Veramente un cazzo E ieri è uscito Riccardo Orsolini Guarda Io Sul secondo account L'ho provato Ho fatto 4-5 partite Credo Boh Non sa De niente Cioè nel senso Sì Può essere simpatica L'Italia Ti rende La carta D'Orsolini Utilizzabile Però Cioè Politano È più forte Politano Ho tolto Politano Per mettere Orsolini Così per provarlo Onestamente Politano È mille Forte Più forte A parte Per finesse Ma per dribbling Il tiro Tanto È molto più veloce Non c'è Paragone È una carta Che costa 25.000 Credo Ti dovevo tirare Noca la fionda Ma Forse Gli potevano Fare Due stats In più Che ne so Ma pure In più Uno su tutto Potrebbe essere Una carta Un pochino Più simpatica Poi Il giocatore Obiettivo Penso Rilasceranno Oggi Che è venerdì Anche perché Ieri Se lo so Dimenticato Se lo so Dimenticato E poi Dovrebbero uscire Anche Delle Icon Prime Tipo Auletto Di Henry Prime E Altre Due Mezze Boost Insomma Toccavate quanto Ti fanno pagare Ma Henry Sicuramente Il Prime Non te lo regalano E Metteci pure Che Sul mercato Sta a 3 milioni Quindi Te spareranno a 2 milioni L'SBC Del Reprime E io Te dico Pure Di Ettero Anche perché Fino a Prime Moments Questo Voraccio Non si sa Come Non si gira Poco Quello Medio Medio Vabbò Ragazzi Abbiamo detto Tutto Il team Non mi Dispiace Voglio Vedere Io stavo Aspettando Ibraimovic Uno Ne stavo Aspettando Perché 5-4 Tutto Boostato Costerà Secondo Member Po Però Quello Che Mi Interessa Tanto Tanto È Lui Però Sono Uscite altre carte Come Morales Collins Guendonzi Alessandri Nitti Arney Martial Sterling Sono tutte carte Che Secondo me Si possono provare Quindi Comunque Anche sto team C'è sta Quello Prima Era Più Simpatico Mancano Appunto 7 giocatori Vediamo Quando Esce Che poi Potrebbero Usci pure Oggi O domani Anziché Domenica E Quello Sto Aspettato Sto Tempore Già Su Martial Comunque Ragazzi Vi do Un bacione Buona Vigilia Ci vediamo Come al solito Live su Twitch Alla solita Ora E ciao Mua